Mi dispiace molto per voi, ma ho vinto. Niente male. Brava. Guardate un po'. Buonasera. Con permesso. Ciao. Mattias. Matt. Ian, ciao. Ciao. Ian e Pia hanno già fatto sesso. Surt. D'accordo. Almeno abbiamo rotto il ghiaccio, no? Scusa, non sapevo che avresti portato quello nuovo. Spero che non complichi le cose, Lex, che si presenta qui all'improvviso. Ti rispondo? Figurati, non ci sono problemi. Ho portato un regalino per me. Quel tesorino dorme già? Sì, per fortuna. Volevo dire purtroppo. Sì, allora posso metterglielo vicino al letto? Gentile. Lo vedrà domattina. Grazie. Ma sei impazzito? Tu lo sapevi. Eh? Quindi? E se fosse questa è casa mia? È casa mia. Casa nostra. E Matt è un nostro amico. Sì, ma è soprattutto il mio ex. Esatto. Intendi il tuo ex? Kurt, ti prego, ci manchi solo tu ora. Beh, io sarei felice se Zora si presentasse. Sì, siamo molto diverse in questo.